Il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari si occupa dal 1928 della formazione dei medici veterinari in Sardegna. È profondamente legato alle tradizioni, al territorio e alla cultura zootecnica della regione, rappresentata principalmente dall'allevamento dell'ovino, ma anche del cavallo, del bovino e del suino. Il Dipartimento è immerso in un ampio spazio verde a disposizione degli studenti, a pochi minuti dal centro cittadino, situato all'interno di un campus ben servito dai mezzi pubblici, con ampi parcheggi a disposizione di studenti e personale. Il cuore formativo del Dipartimento è il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, che assieme al corso di laurea specialistica in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie e il corso di laurea magistrale in Wildlife Management, costituiscono l'offerta formativa dedicata agli studenti.